Ancora non è chiaro quanti profughi arriveranno a Padova nelle prossime ore, ma la macchina organizzativa per allestire la palestra dell'Istituto Superiore San Benedetto da Norcia in via Cave a Brusegana è già partita per posizionare brandine e tutto l'occorrente per accogliere i migranti che dovrebbero arrivare in pulma dalla Sicilia dopo aver fatto tappa a Marghera. Intanto a Selvazzano dentro, a pochi metri dalla palestra comunale di Feriole dove da lunedì sono ospitati 33 profughi, questa mattina è stato allestito un gazebo per la raccolta firme per dire no a questo tipo di accoglienza, ovvero l'accoglienza in mini hub. Non siamo contro l'accoglienza ma il sito che è stato individuato. In questa occasione sostanzialmente il commissario si è dato da fare perché paradossalmente noi siamo un comune commissariato quindi non c'è un sindaco che possa rapportarsi con il prefetto per individuare altri siti. Il commissario ha individuato questo posto che ha delle problematiche legate a quello che è una recinzione e una palestra che è priva di condizionamento d'aria. Il comitato contesta la scelta del luogo per l'accoglienza ritenuto non idoneo non solo per le condizioni difficili visto il gran caldo ma anche perché è situato proprio di fianco ad un asilo nido. Dimostrare la nostra preoccupazione appunto per un sito inadeguato che prima di tutto fa soffrire chi è arrivato prima ancora che noi perché questa è la cosa che a un certo momento bisogna anche tenere presente. In luogo inadeguato in una struttura che è una palestra vicino a un asilo nido che tra poco dovrebbe cominciare le attività appunto di tipo scolastico e ricreativo e in una frazione che è tra l'altro la più piccola del comune di Selvanzano. Le firme raccolte verranno inviate poi alla prefettura con un documento per richiedere che il tempo massimo di permanenza dei profughi nella palestra comunale di Feriole sia di tre settimane a partire dalla data del loro arrivo ovvero il 21 agosto e che venga smantellato per l'inizio dell'anno scolastico.